I vertici nazionali e regionali della Will hanno partecipato alla cerimonia per i 50 anni della Onda Italia, una delle prime aziende metalmeccaniche insediate in Val di Sangro. Prima dell'ingresso nello stabilimento di Atessa, Bombardieri si è intrattenuto con la stampa. Nel pomeriggio, insieme al segretario generale della Will, Rocco Palombella, e al segretario generale della Will Abruzzo, Michele Lombardo, parteciperà all'incontro il futuro dell'industria metalmeccanica abruzzese, che si svolgerà presso il Centro Eventi Agora di Piazzano di Atessa. Il futuro dell'industria metalmeccanica abruzzese, per cui oggi abbiamo invitato il nostro segretario generale, insieme a Rocco, per poter portare il loro sostegno a un Abruzzo che ha bisogno di essere rilanciato in termini industriali e non solo. Abbiamo grandi fabbriche, siamo l'area industriale del Centro Sud più importante, per cui valorizzare e accendere i riflettori su quello che sarà il futuro di questa regione e soprattutto dell'industria metalmeccanica. Grazie a Pierpaolo Bombardieri per la sua assistenza e presenza qui, alla festa della onda che ci onora, per cui do la parola al segretario generale. È una giornata importante, noi pensiamo che questo territorio ha bisogno di un'ulteriore attenzione in un momento importante del Paese. Si stanno utilizzando risorse europee per investimenti, si sta pensando come ridisegnare il Paese, stiamo ragionando su quali politiche industriali e quale connessione fra le risorse del PNRR e le politiche industriali che il Governo dovrà adottare nei prossimi mesi. Qui per testimoniare l'attenzione che la nostra organizzazione dà intanto lo stabilimento, ai lavoratori e alle lavoratrici dello stabilimento, ma alla necessità di sviluppare e di coordinare lo sviluppo delle politiche industriali con un settore che rischia di andare in crisi, perché magari mancano i microchip, perché magari ci sono concorrenze di altri Paesi e di altri continenti spesso non tanto corrette. Questo serve oggi per testimoniare la nostra attenzione e il nostro impegno per il futuro. Le due parole sullo scontro di Roma le vuole spendere, visto la regrazione di Draghi ieri di sospendere, di opprimere Forza Nuova? È un attacco squadrista fatto da fascisti contro tutto il sindacato confederale. Non ci facciamo intimidire, non abbiamo paura. Sabato saremo in piazza per una grande manifestazione democratica, antifascista, una manifestazione che riproporrà i temi dello sviluppo e del lavoro in questo Paese. Il d'accordo nel sopprimere Forza Nuova come partito politico o nel colpire Pacino Rose? Ma la Costituzione parla chiaro. La Costituzione impedisce qualsiasi organizzazione che si rifà alle idee fasciste. Non credo che ci sia bisogno di ulteriori interpretazioni. Nicola Manzi, oggi si tratta di una giornata di festa qui alla Onda per i 50 anni di attività, la prima azienda metalmeccanica che è insediata su questo territorio. Ha attraversato questa azienda anche nei momenti di difficoltà. Adesso c'è un po' di stabilità per fortuna. Stabilità e ripresa. Dopo gli anni bui del 2011-2012 questo stabilimento ha rialzato la testa grazie al contributo dei tanti lavoratori, i sacrifici di tante persone che hanno dovuto accettare un taglio occupazionale del 50%. Vuoi per crisi, vuoi per altro. Adesso si guarda al futuro con questa festa dei 50 anni in modo diverso perché si è ripartiti con la nuova occupazione. Sono stati assunti circa 40 lavoratori a tempo indeterminato. Abbiamo una stagionalità di prodotto che dà occupazione a circa 900 addetti per cui la Onda ha ripreso a volare e non dimentichiamo mai che è rimasto l'unico stabilimento che produce moto col marchio Onda in tutta Europa. Il prodotto Made in Italy è stato molte volte elogiato dai clienti e il lavoro di queste persone, di questi lavoratori ha fatto sì che il prodotto Onda è conosciuto in tutto il mondo. Onda è una delle poche aziende della Val di Sangro che è riuscita a creare anche un indotto abbastanza consistente. Un'altra azienda, la più importante, invece sta vivendo dei momenti particolari e preoccupanti. Ci riferiamo alla Sevel. Cosa può dirci dopo l'incontro anche con il ministro Giorgetti? Di là delle rassicurazioni ministeriali o anche del gruppo Stellantis, il problema di fondo sta nel fatto che la Sevel ha perso il monopolio della produzione del Ducato in Europa. Era l'unico stabilimento che produceva quel benedettissimo furgone e oggi non c'è più perché a partire dal prossimo anno in Polonia, a Grivice, si produrranno dei 25 ai 40 mila furgoni per arrivare a regime nel 2023 a 100 mila furgoni. Siamo nell'anno dei record, riconfermati 300 mila furgoni per la Sevel ma tutto questo purtroppo coinciderà quando si andrà a regime con la Polonia a una condivisione del mercato europeo. Seppur Stellantis ci assicura che lo stabilimento di Sevel resta centrale, noi riteniamo che se i numeri vanno condivisi e da sé noi avremo un impatto sia occupazionale che economico ricondizionato dalla nuova azienda. Due aziende che condividono un percorso diventa veramente difficile.